Mia figlia minorenne è stata lasciata a piedi ieri da Autolinea Toscane e ancora i nostri ragazzi non hanno trovato i bus di fronte alla scuola. Fioccano le segnalazioni per un inizio di anno scolastico a dir poco travagliato per gli studenti che si avvalgono del trasporto pubblico con Autolinea Toscane. L'azienda, subentrata a TM, sia in ambito urbano che extraurbano anche in provincia di Arezzo. A protestare questa mattina un padre di famiglia che peraltro non sarebbe riuscito a parlare con un responsabile perché la figlia all'uscita dalla scuola non è stata fatta salire sul bus per problemi di sovraffollamento e il caso non sarebbe isolato. Abbiamo così contattato l'azienda che risponde con una nota inviata alla nostra redazione che leggiamo testualmente. Siamo consapevoli del disservizio nella fase di assestamento degli orari scolastici sono frequenti casi di sovraffollamento su determinate corse pur essendoci un'offerta di servizio di trasporto all'uscita da scuola che in questo caso specifico della linea LS5 prevede, oltre a quella segnalata delle 14 e 15, altre sei corse in partenza nella fascia oraria tra le 13 e 15 e le 13 e 45. In collaborazione con la provincia di Arezzo chiude la nota e gli altri enti monitoriamo la situazione per eventuali interventi. Intanto il padre della ragazza sta valutando se presentare o meno un esposto.